di partire da qua, da qua di partire con lo senti in cuffia la roba sei più quattro ok adesso vai tipo almeno tre cioè nel senso come fai all'inizio? che sospendi un po' per ripartire col giro quindi sospendo lì, sospendo lì nella vita bisogna scegliere ok ho tolto la roba intogliata è un video o una foto? una foto bellissima però questa take ok solo un giro intanto vediamo se va bene il suono un giro intanto è troppo è troppo è troppo è troppo è troppo è troppo